La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione che determina condizioni di stabilità con temperature che, specie nelle ore diurne, fanno registrare valori ben al di sopra della media stagionale. Una situazione poco evolutiva nel corso delle prossime 24 ore, mentre da sabato il campo anticiclonico posizionerà i suoi massimi di pressione sulla penisola scandinava, consentendo così la discesa di un nucleo di aria relativamente fredda in direzione della penisola ellenica. La nostra regione verrà interessata marginalmente, ma gli effetti non mancheranno e saranno riconducibili ad un vistoso rinforzo del vento e ad una brusca diminuzione delle temperature. Molto scarse saranno invece le precipitazioni e relegate per lo più alla serata di sabato, ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Venerdì 15 aprile, cielo poco nuvoloso ovunque con passaggi di rubi stratiformi unitamente a pulviscolo sariano, temperature stazionarie con valori massimi ovunque al di sopra dei 20 gradi centigradi, venti deboli da scirocco e mare poco mosso. Sabato 16, condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con possibili associate precipitazioni più probabili sul settore centro-meridionale della regione. I fenomeni in serata potrebbero assumere localmente carattere di rovescio, ma avranno durata limitata. Temperature in diminuzione dal pomeriggio, venti deboli di direzione variabile, con tendenza a disporsi da nord-est dalla serata e a rinforzare nel corso della notte. Mare da poco mosso a mosso. La giornata di Pasqua trascorrerà con cielo generalmente poco nuvoloso lungo la costa, con basso rischio di precipitazioni, mentre locali addensamenti saranno possibili nelle aree montuose, dove non si escludono isolati piovaschi, possibilità di spruzzate di neve sulle cime dell'Appennino, temperature insensibili diminuzione, fino a 8-10 gradi centigradi in meno rispetto ai valori attuali, pertanto le massime non dovrebbero superare i 14-15 gradi centigradi. Venti tra moderati e forti da nord-est e mare poco mosso sotto costa e molto mosso o agitato a largo. Per la giornata di Pasquetta non avremo grossi cambiamenti, fatta eccezione per una diminuzione dell'intensità del vento. Le temperature si manterranno sempre sul valore al di sotto della media del periodo. Per maggiori dettagli invito comunque a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Da Giuseppe Stabile auguri di una serena e felice Pasqua a tutti i telespettatori di Cilento Channel.